Come generare infiniti contatti di potenziali clienti, quindi come andare a fare lead generation utilizzando le Facebook Ads, utilizzando pubblicità su Facebook, pubblicità anche online in generale, anche se oggi nello specifico andiamo a vedere su Facebook. Come al solito sono Michele, se non sei iscritto o iscritto al canale iscriviti per restare aggiornato e continuiamo il nostro discorso sulle Facebook Ads. Ho fatto già un sacco di video, una playlist in cui parliamo di Facebook Ads, pubblicità su Facebook e tutte queste cose qui, se ti interessa ovviamente la trovi nel canale. Ma a oggi andiamo più in profondità, andiamo a vedere una strategia specifica per fare lead generation, cioè generare contatti. Perché questa è una cosa molto importante? Perché per la maggior parte dei business, anzi userei a dire fondamentalmente per tutti i business, servono dei clienti, servono delle persone interessate a qualcosa. Questi clienti, prima di diventare clienti, sono diciamo dei contatti, degli utenti, possiamo anche dire. L'utente che naviga su Facebook, che si interessa del nostro prodotto tramite la nostra pubblicità, cliccherà da qualche parte, lascerà i suoi contatti, i suoi dati. E appunto i suoi contatti per questo lead diventa un contatto, quindi una persona che è interessata. E diciamo noi avendo i suoi contatti poi possiamo fare una serie di operazioni di marketing per poi andare a vendere. Ovviamente oggi non guardiamo il lato dopo, quindi una volta che hai il contatto cosa fai, chiami, lo incontri, quello che è. Adesso oggi non guardiamo quella cosa lì, guardiamo la parte prima. Quindi come generare questi contatti, come avere sempre numeri di telefono, email, eccetera, per poi poter fare marketing, business e quant'altro. Proprio con le Facebook Ads, facendo pubblicità su Facebook. Quindi è una cosa molto molto figa, perché veramente ci dà l'opportunità di scalare i nostri business all'infinito. Nei vecchi tempi, diciamo una volta, con le pubblicità tradizionali più che altro, sì, potevi fare volantinaggio, potevi fare pubblicità in tv o in radio, ma avevi sempre il problema che era molto vago, non sapevi quante persone effettivamente arrivavano da quale mezzo, quindi si disperdevano, non sapevi il ritorno preciso sulla tua spesa e di conseguenza, vabbè, spendevi in pubblicità perché sì, perché è importante fare pubblicità, perché devi chiaramente farti conoscere, altrimenti il business non cresce giustissimo. Con gli strumenti online invece puoi farlo proprio in maniera matematica. Quindi se sai che generare il contatto di un potenziale cliente ti costa 1 euro, 2 euro, 5 euro, anche 10 euro, sai ogni quante persone, ogni quanti contatti vai a fare una vendita, ovviamente questo lo saprai con un po' di esperienza, però non lo so, il 2%, il 5%, il 10%, il 20% dipende un po' dal business, dal target di pubblico, dalla modalità di vendita anche, sai però che ogni 100 fai top vendite e quindi puoi calcolare il tuo ROI molto semplicemente. Quindi se mi costano 5 euro e io chiudo il 10% dei miei contatti, benissimo, 100 persone, 10 chiusi, mi costano 5 euro l'uno, quindi ho speso 500 euro per avere 100 contatti e ne ho chiusi 10. Questi 10 mi valgono più di 500 euro? Quindi mi valgono almeno 51 euro, 50 euro e un centesimo a testa? Sì? Ottimo! Allora sei in profitto? No? Allora non sei in profitto e devi capire che cosa puoi fare per andare in profitto. Quindi gli upsell, dei crosssell, cioè vendere di altra roba dopo la prima vendita, così da alzare lo scontrino medio, diciamo il lifetime value, quindi il valore del tuo cliente dopo la prima vendita oppure a cercare di abbattere i costi pubblicitari, che però ti dico è la via un po' più tostica perché in realtà i costi si stanno sempre alzando sempre di più perché più persone vanno ad utilizzare sistemi di pubblicità online e di conseguenza aumenta la competizione, aumentano le aste, sono sistemi ad aste dove più gente c'è che vuole pagare e vuole fare pubblicità, più i costi tendono a salire. Ma questo non è un problema perché con un business fatto bene, con delle strategie fatte bene si può fare profitti molto molto interessanti, fidati che si può fare. Benissimo! Adesso ti dico, passiamo subito alla nostra schermata di Facebook perché abbiamo detto vediamolo proprio con Facebook davanti. Innanzitutto vediamo che tipo di pubblicità dobbiamo andare a fare quindi andiamo dentro al nostro gestione di inserzioni o ads manager e capiamo quale obiettivo dobbiamo selezionare per fare appunto lead generation e ti sembrerà banale ma generazione di contatti è proprio l'obiettivo che ci dà in mano Facebook per poterlo, diciamo, per generare contatti in inglese appunto lead generation. Tralasciamo tutto il discorso di CBO, Abit Test, vabbè gli Abit Test non vanno fatti in questo modo qui vanno fatti ma non con i sistemi automatici di Facebook ne parleremo magari in un video specifico e vi spiegherò il perché. Comunque adesso tralasciamo anche tutta la parte di pubblico non ci interessa in questo momento perché voglio portarti a contatti finché, oddio aspettiamo, ovviamente ecco questo è importante non è ovvio però vabbè ti compare davanti con questa pagina per esempio non ho mai fatto lead generation perché ne ho tante e questa qua mi è capitata una adesso con cui non l'ho mai fatto e quando lo fai devi accettare queste condizioni perché sono questioni di gestione dei dati, GDPR e cazzi e mazzi ovviamente noi lo leggiamo molto attentamente e accettiamo le condizioni benissimo, poi vabbè qua il pubblico abbiamo detto tralasciamo in questo momento non ci interessa arriviamo alla parte diciamo dell'add quindi della pubblicità vera e propria che l'utente vedrà ovviamente come al solito puoi dare il nome all'inserzione e gli puoi inserire un'immagine o quello che vuoi non cambia niente sulla parte di testo e link quindi appunto possiamo scrivere quello che vogliamo inserire un'immagine, mettere un titolo, mettere una descrizione e diciamo qua c'è la nostra fantastica preview anche il link visualizzato proprio io personalmente non lo faccio mai la call to action può essere un iscriviti, ricevi l'offerta o quello che hai in base al tipo di pubblicità poi magari verso la fine del video parliamo dell'angolo quindi della parte comunicativa che possiamo andare a fare per utilizzare al meglio queste strategie ma arriviamo nella parte tecnica diciamo un po' più ostica o meglio non ostica ma semplicemente da capire, da spiegare poi è molto intuitiva il modulo, praticamente Facebook ci dà la possibilità di utilizzare i moduli Facebook che sono appunto, vabbè lo dice la parola stessa dei moduli in cui le persone possono lasciare i loro dati però lo fanno direttamente dentro la pagina dentro Facebook, dentro l'app Facebook dentro l'istituto Facebook quindi non in un sito esterno e questa è una cosa che a Facebook piace perciò ti fa costare meno il contatto fondamentalmente perché gli piace? perché Facebook sa che se tu porti gli utenti fuori dalla piattaforma sono utenti che sono fuori e li stai monetizzando tu, non li sta monetizzando lui finché invece restano dentro la piattaforma loro lasciano i dati e poi continuano nella loro diciamo routine all'interno del social e quindi Facebook può continuare a monetizzarli motivo per cui tutte le cose che diciamo restano all'interno di Facebook tendenzialmente costano un po' meno comunque è meglio, è più vantaggioso per lui e quindi anche per noi diciamo utilizzare questi sistemi mentre quelli che li portano all'esterno non è che non gli piacciono perché comunque tu li vai a pagare però ti costano un po' di più tant'è che a livello organico quindi non sponsorizzati i post con i link che li mandano all'esterno hanno un 10% di reach quindi vengono viste da solo rispetto al totale anche quelli senza link non vengono visti da tutte le persone che seguono per esempio la pagina ma da una piccola percentuale ecco se ci metti dentro un link è il 10% di questa percentuale quindi proprio poca gente proprio perché Facebook vuole tenere le persone dentro la piattaforma comunque come funzionano i moduli? allora, nuovo modulo una chicca importantissima che ti dico subito è che finché non sei sicuro che il modulo sia pronto salvalo perché quando fai fine non lo potrai più modificare per modificarlo devi copiarlo e modificare la copia diamogli un titolo in questo caso lo chiamo prova tutorial youtube e abbiamo due tipi di moduli volume maggiore o intenzione più elevata innanzitutto vediamo qual è il modulo è questo qua questo coso qui quindi le persone lasciano i dati in questo caso email e nome fanno next leggono diciamo la privacy eccetera e arrivano a una sorta di thank you dove noi possiamo anche aggiungere un bottone per andare ad un altro sito web intenzione più elevata aggiunge un passaggio cioè se inserimento dei dati controllo che i dati sono effettivamente giusti faccio uno slide verso destra per inviare e poi arriva la thank you quindi la differenza sta proprio nella pagina di mezzo che qua è un accettazione e submit qui è un controllo in più quindi richiede diciamo un'intenzione maggiore delle persone sai che sono dei lead un po' più profilati magari ne ha perdere qualcuno però ok detto questo va bene adesso lasciamo pure in tensione più elevata così vediamo tutti i passaggi presentazione facoltativo noi possiamo inserire il nome quindi ricevi l'offerta e possiamo usare l'immagine dell'inserzione oppure caricare un'immagine specifica possiamo scrivere quello che vuoi compilando questo modulo potrai ricevere l'offerta per esempio e poi ha belle domande quindi email numero di telefono vabbè non so possiamo dare un titolo compila i dati compila il modulo che ne so email nome possiamo aggiungere altre domande quindi contact fields phone number street address city state province insomma quello che vogliamo user information demographics quindi data di nascita sesso possiamo chiedere veramente un sacco di cose adesso non sto guardando tutte nello specifico ma anche le custom questions quindi una risposta breve una scelta multipla una condizionale una programmazione dell'appuntamento per esempio parliamo quest'ultima puoi dare diciamo una disponibilità di date e scrivere per esempio scegli o meglio richiedi il tuo appuntamento appuntamento richiesto e vabbè qua ha preso quelli della pagina di default comunque può essere un'opzione se ad esempio hai un cliente che ha bisogno di questa cosa qui un'altra cosa che personalmente però non lo consiglio cioè preferisco io catturare il contatto e poi mettere in contatto con l'assistente dei miei clienti condizionale dare diciamo un insieme di risposte in base delle condizioni devi caricare un file csv per farlo scelta multipla viene da sé fai la domanda e inserisci una serie di risposte e la persona qui lo potrà selezionare e dare la sua risposta risposta breve diciamo gli chiedi una cosa e il tipo dovrà scrivere proprio la parola normative sulla privacy anche qui diamo un testo al link dobbiamo mettere un link della nostra privacy schermata di controllo è quella della quella della slide semplicemente ci dici che esiste schermata di ringraziamento possiamo modificarla dare un titolo dare una descrizione e rimandare al sito web a un download di qualcosa o a una chiamata in azienda quindi lasciare il numero di telefono come preferiamo altre impostazioni che abbiamo sono quelle del inglese italiano vabbè perché adesso non so come l'ho impostato comunque adesso è uguale cioè non è che è uguale se il tuo pubblico è in italiano ovviamente lasciare la lingua italiana condivisione con restrizioni cioè solo le persone che hanno pubblicato le sue inserzioni direttamente possono inviare questo modulo oppure aperto quindi se una persona condivide la tua pubblicità anche le altre persone che hanno visto la pubblicità condivisa possono diciamo compilare il modulo eventuali id ci sono quelli di default id sono quelli appunto delle domande e che servono per il file di la tabella che diciamo potrà salvare tutti i contenuti e sono utili per una questione di API eccetera poi modificarli o lasciarli come vuoi parametri di monitoraggio nome del parametro valori del parametro insomma qua sono altri parametri che puoi aggiungere per esempio per capire da quale modulo arriva per capire da quale ad arriva e cose del genere se vogliamo salvare salviamo se vogliamo finirlo finiamo adesso mi dice che non posso perché manca la privacy ma vediamo se facendo così me lo piglia giusto per ah possiamo anche aggiungere un disclaimer personalizzato volendo però boh frega cazzi scremata di ringraziamento ah li mettiamo gli sito e www.google.it fine andiamo perfetto me l'ha preso quindi dopo di che noi procediamo con la nostra inserzione pubblicità facciamo conferma e adesso io non lo faccio ovviamente e partiamo con la nostra ad che rimanda al modulo dove finiscono le informazioni di questo modulo lo vediamo subito andiamo in business manager andiamo dentro la pagina in questo caso era questa che ho appena utilizzato che è una pagina d'altà che avevo aperto praticamente di prova andiamo in strumenti di pubblicazione altro strumenti di pubblicazione moduli moduli dell'inserzione per acquisizione contatti libreria dei moduli libreria delle bozze dei moduli configurazione dei contatti quindi andiamo qui libreria dei moduli abbiamo proprio il nostro nostro coso il nostro modulo e possiamo scaricare i contatti generati da qui scarica nuovi contatti scaricali per l'intervallo di date quindi puoi scaricare i contatti che hai generato e poi utilizzarli un po' come vuoi scopriremo in un altro video come automatizzare il passaggio di questi dati a dove vuoi tu ultima cosa di oggi è parlare dell'angle quindi cosa comunicare con queste pubblicità una cosa che funziona molto è proporre delle offerte quindi per esempio stai aiutando un personal trainer a trovare contatti di potenziali clienti offerta del tipo clicca qui e lasciaci i dati per no non so clicca qui lascia il tuo numero di telefono per essere ricontattato o ricontattata e avere un'offerta del 50% per esempio cose del genere solo se ci lasci i dati però di conseguenza la persona è incentivata a cliccare lasciare i dati per ricevere un'offerta per qualcosa che già vuole quindi tu sai che la persona ti ha lasciato i dati perché vuole un'offerta per il tuo servizio quindi potenzialmente diventerà un cliente se tu puoi quando lo incontri quando la chiami quello che è riesci a venderglielo bene ti dimostri una persona professionale ma tu sai già che è una persona che vuole il tuo servizio perché altrimenti non avrebbe lasciato i dati per l'offerta per il tuo servizio molto semplice detto questo per il video di oggi è tutto ricordati di lasciarmi un commento soprattutto per farmi sapere se questa roba ti è utile se cosa non hai capito se sei domani insomma io ti rispondo senza problemi se hai curiosità di approfondimento eccetera ottimo e per il resto noi ci vediamo al prossimo video e ricordati che se vuoi imparare nel dettaglio queste cose imparare a fare affiliate marketing smma allora per l'smma in descrizione trovi il link per il miglior percorso di formazione smma attuale che è quello che ho fatto anche io agli inizi ormai più di un anno fa e che mi ha aiutato veramente a iniziare a fare social media marketing con profitto per invece l'affiliate marketing io e altri 4 ragazzi abbiamo aperto una community che si chiama digital builders in cui aiutiamo le persone a imparare il digital marketing e a guadagnare online quindi fare i primi passi con l'affiliate marketing nello specifico quindi anche quello c'è il link community digital builders trovi vai in una pagina web in cui ti spiego tutto nel dettaglio detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao